Due anni di intensa attività laboratoriale e didattica sulla robotica educativa. Docenti e ragazzi dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Spoltore, grazie alla proficua collaborazione con l'Istituto Volta di Pescara, raccolgono oggi i frutti del loro impegno. E grazie alla vittoria, nella quinta edizione di RoboCup Junior Italia, tenutasi lo scorso aprile a Montesilvano, staccano un biglietto per le finalissime mondiali in programma in Doven, nei Paesi Bassi. Si svolgeranno dal 27 al 30 giugno e i ragazzi gareggiano per la categoria Rescue, la ricerca dei dispersi. Sarà il robot Our Hop, la speranza del team Spoltore insieme. È composto da un brick, che è il cervello centrale che manda i comandi a tutte le altre parti. Poi ci sono dei motori, due per camminare, per far girare le ruote, e uno per far aprire e chiudere un braccio che poi dovrà prendere una lattina. La gara consisterà in un percorso che questo robot dovrà affrontare. Più facilmente si riesce a superare questo percorso, più ostacoli si riescono a superare, e maggiori sono i punti che si guadagnano. E vince chi guadagna più punti. Bocca al lupo! Crepi! Grazie!